Ciao a Giovanni Zannola, coordinatore del forum sport, sport che insomma nelle spiagge viene fatto in un certo modo, anche quello è monopolizzato, quindi penso che siamo in un certo momento del tutto ottiene, sport. Benissimo, benissimo, faccio più che intervento un augurio perché credo c'è anche Marco qui perché dieci anni fa quando mi sono iscritto a partire da ora alla Sinistra Giovanni e peraltro iniziamo in questo teatro a fare un'iniziativa e facciamo un'iniziativa con Marco stesso sulla questione lungomuro, la prima cosa che faccio è l'agulio che tra dieci anni ha costituito il biondo, però quel muro abbattuto non come me, un muro rimasto lì. Io, oltre alla questione sportiva, che è imbarazzante immaginare che si siano fatti di mondiali di viccioli al foro italico e non ad ostia e che quando ero qui in municidio per organizzare manifestazioni sportive sulla spiaggia bisognava sempre chiedere il permesso per il pagamento di un qualcosa. Per l'altro sono dimintiato, c'è la mia prof del liceo dieci anni fa l'iniziativa con un diciatur adolescenziale in questo teatro oggi e magari serve anche per rimettere un po' la carica, però io con l'augurio che faccio per essere breve non voglio parlare tanto di sport, voglio dire un paio di cose. Penso che chi governa oggi Roma non ha tutte le colpe, forse neanche nessuna colpa rispetto alla situazione che c'è oggi, non voglio difendere il sindaco di Roma, io tutti i giorni la attacco pubblicamente, lo faccio ancora oggi, se si rimette siamo tutti felici, però dobbiamo dirci le cose che non abbiamo fatto noi e che non dobbiamo fare più noi. E le voglio dire apertamente e con serenità perché mentre una parte del Partito Democratico, degli allora democratici di sinistra facevano una battaglia, provavano ad ascoltare la battaglia che l'associazione che è intervenuta prima ha sempre fatto, da strone alla politica, c'era chi magari non accettava il contributo dei barneari per la propria campagna elettorale e chi dei barneari si faceva offrire le cene, questo era un problema, questo è stato il problema in questi anni e io non contando, non facciamo i magistrati e non possiamo decidere se siano mafiosi o non mafiosi, questo deciderà la magistratura e penso che possiamo anche avere un rapporto dialogante, perché oggi amministrare significa anche mettere insieme il privato e il pubblico nell'interesse generale, però quel rapporto deve essere trasparente e deve essere soprattutto slegato da unologica di ricerca di consenso o tanto più da un sostegno economico in cambio di fatto di non poter dire le cose così come stanno e così come dovrebbero essere. Mi piace tanto l'idea di dedicare un chilometro perché penso sia una cosa possibile, sono un po' più pragmatico rispetto a dieci anni fa, spero che Agostino non lo sia quanto me, perché penso davvero che potremmo regalare a Roma e trasformare Ostia al decimo municipio nell'affaccio di Roma sul Mediterraneo perché è importantissima, noi decidiamo un paio di anni fa di chiamare Ostia questo municipio di Roma Mediterranea, ci piaceva l'idea che il mare potesse essere un luogo di accoglienza, potesse caratterizzare la nostra città per la bellezza che ha e proprio regalare questa bellezza non solo ai cittadini di Roma, ma ai cittadini di tutta Europa e la cosa che più è da rendere bene tale è quella di appena aprire la via del mare fare quel chilometro in cui non ci siano più strutture, muri, muretti, abitazioni e quanto altro. L'ultima cosa che dico, perché io Sabella ho stimato tantissimo il lavoro che ha fatto Sabella e sono contento che in questa trada si sia riparito. non penso di offendere qualcuno se dico che dopo Sabella, seppur con il municipio commissariato mi sembra che non si sia fatto nulla sulla questione barneare e penso che come ho chiesto al PD il coraggio, chi il coraggio può averlo perché non ha bisogno né di chiedere consenso né di chiedere fondi in campagna elettorale come chi in questo momento ha il compito di governare il municipio dovrebbe perdere poco tempo e far decadere quelle licenze a quelle persone che hanno commesso appunti sulle spiagge, perché è vero che il PD deve mettere al primo punto del congresso la questione dell'affaccio di Roma sul Mediterraneo, ma è anche vero che deve chiedere da subito, come stiamo già facendo, ma ci rispondono picchie, che i commissari che governano il municipio per altri sei mesi debbano far decadere immediatamente le licenze che ha costruito abusamente sulle spiagge. Grazie.